A noi oggi attraverso l'iniziativa che porta avanti il nostro capogruppo Pietro Quaresimale presenteremo un progetto di legge che prevede come principio quello di istituire per tutti i settori della Regione Abruzzo il principio della residenzialità quindi ogni qualvolta ci sarà un bando che possa essere di natura sociale oppure dello sport oppure per l'assegnazione delle case popolari oppure l'accesso agli asili nido qualora ci fosse una legge che vada a prevedere questo tipo di facilitazioni bisogna applicare il principio di residenzialità ovvero saranno stabiliti dei criteri che permetteranno l'accesso ai servizi prima agli abruzzesi.